Benvenuti, benvenuti cari amici, siamo Viti in questo nuovo video Naturalmente come sempre ricordo di suggerire like, iscrivervi al canale, iscrivervi anche nel telegram Oggi andremo a parlare anche una volta di meme, token, perché secondo me sta per arrivare una grande occasione C'è stato un piccolo scarico, niente di che, niente di così problematico E dal mio punto di vista ricordate gli scarichi, soprattutto in bull market, sono sempre una grandissima occasione Che per fortuna arriva, e per cui andremo a vedere quelli che sono i principali meme token in questa fase di mercato Andremo a vedere anche quella collection in questo momento di bitcoin che ovviamente va a influenzare i nostri amici Mem token, e per cui iniziamo subito Per cui andiamo subito a vedere quello che sta avvenendo su bitcoin, in questo momento prezzo di 66.800 dollari Ovviamente abbiamo sempre all'interno del nostro chart sul main seal, le varie skyrockets, i vari meme, i principali meme Abbiamo avuto, vi ricordo, maggio 2021 Dogecoin, novembre 2021 Shiba Inu, maggio del 2023 Pepe E recentemente c'è stato uno skyrockets da parte di book of meme, questi potrebbero essere i principali nomi Che potremmo rivedere nel prossimo bull market, sono la mia convinzione tematica Però ovviamente molto dipende da quello che avrà, ok, su bit, che in questo momento sul mensile sta per riregistrare Ok, se ti interessai, e poi potremmo prendere i partiti Quindi io rimango hyper bullish, ok, su bitcoin, weekly, chiuso bene Comunque in zona double bottom, sui 64.600 dollari Vedete, questa era la settimana del, ve lo pongo subito, 11 marzo 2024 E in questa settimana qui, l'ultima, abbiamo fatto praticamente i stessi target Quindi attenzione, perché poi fu una settimana bullish, ok, ci fu prima il bottom e poi l'ultima mai Ok, quindi non mi stupirebbe il raggiungimento dell'ultima mai, come ho più volte detto Qui vediamo per l'appunto il bottom, fatto sul giornaliero in particolare in data 2 aprile 2024 Sì, 64.000, però noi mentre abbiamo visto che insomma c'è stato un bel dip delle altcoin, ok, che andremo ora a vedere Però prima vorrei ricordarti, allora, super evento, ok, che andrò a ottenere il 20 di aprile a Reggio Emilia Dalle 10 alle 17, ok, sarà un evento epico Ovviamente non mancheranno, ok, i meme token, non possono mancare i meme token Ma andremo a parlare anche di altro, andremo a parlare anche con altri, ok, professionisti Del settore crypto Quindi assolutamente io ti aspetto, ancora 3 giorni, ok, disponibili per le iscrizioni Abbiamo veramente gli ultimi posti, quindi ti ricordo, trovi sotto il link in descrizione Registrati, perché sarà un evento epico e non puoi assolutamente mancare Dopo vi ricordo anche di iscrivervi a samubit.com E' gratuito, qui c'è anche l'area corsi, quindi avete 3 corsi gratuiti per ogni settore, ok, che io sono andato a costruire Avrete la vostra mail, password, entrate dentro e io ve lo consiglio Ma soprattutto vi ricordo anche il super problema da parte di BitGet BitGet Exchange che utilizzo va a offrire fino a 100 dollari USDT, l'abbiamo visto Semplicemente depositando 50 dollari USDT andrete a ricevere ulteriori, ok, 50 dollari E se effettuerete i volumi per 3000 dollari, ulteriori 50 dollari USDT Quindi veramente una promo pazzesca, trovate tutto letteralmente in descrizione Ora andiamo a vedere il settore meme, ok, so che vi piace il settore meme Oramai noi siamo, diciamo, affezionati, ok, a questo settore Ma più che affezionati, proprio direi appassionati, ok, di questo settore Capitalizziamo 59 miliardi, c'è stato un bel dip, ma insomma fa parte del gioco Perché sappiamo che insomma i meme token sono molto volatili Ma come andremo a vedere ora in un tweet sono stati quelli più redditizi Quindi questo è un elemento bene da mettersi in testa Troviamo Dogecoin, 25 miliardi Shiba Inu, 15 miliardi Dogwifat, 3.3 miliardi Quindi insomma, un settore che si sta muovendo in maniera molto veloce E secondo me è ancora sottovalutato Quindi ti prego, studiatelo anche su samovit.com Vai, c'è meme mania Che veramente, mi hanno detto tutti, è un super corso Ma soprattutto voglio mostrarvi anche, per l'appunto, quella che è stata la narrativa principale Perché per dare un'idea, mediamente, guardate qui dal 1 gennaio al 31 marzo Il settore meme ha fatto 1.313% Ripeto, 1.313% E ancora molti colleghi lo bisfrattano Secondo me è un abominio, ok? L'RWA, il secondo principale, è più 286% Questo vi fa capire dove ci stiamo muovendo C'è i meme, no? Sono un settore molto importante Poi, a conferma di questo Per fortuna gli americani hanno una mente un po' più aperta Principale canale americano, Alcoin Daily 1,45 milioni di follower Va a parlare, ad esempio, di base Svegliatevi, ok? Svegliatevi Perché questo è il momento Quindi che cosa voglio dirti con questo? Proprio con i meme, ok? Se non fa numeri, però devi selezionare i meme giusti Quindi io ti invito, ok? Se vuoi ancora Entrare nel gruppo cowboy Noi facciamo ricerche giornaliere sui meme Ma non solo Ma ovviamente quello è il focus Quindi prenota subito la call gratuita Perché il tempo sta per scadere Ok, dal mio punto di vista Dopodiché Andiamo a vedere un settore più in particolare Quello dei meme di Coinbase Che secondo me è molto interessante Allora, al momento capitalizza 1.4 miliardi Sui giornaliere almeno 14% Ma insomma è un settore piccolo Vediamo Brett meno 2.6 Tenuto bene Brett Meno Degen Che perde un 25% Però vediamo Sul settimanale Hanno fatto bei numeri Toshi Gatto di Base Perde il 5.6 Insomma Ora Hanno perso un pochino Però Si esplosi Ok? Questo volevo mostrarlo Quindi attenzione Anche i token di Base Cosa che noi stiamo studiando Tra l'altro Voglio mostrare anche quello che era La chart Di Brett Escludiamo il fatto che Magari molti di noi Insomma Prenderlo il 2 a marzo Era un po' dura Però chi se li ha preso Anche a metà marzo Ci ha fatto numeri Ok? Almeno era doppiato Tantissimi dentro il gruppo Cowboy Hanno fatto numeri Ok? Con Brett Per esempio Li avevo chiamato E poi Insomma Non è che sono diventati milionari O chi se è chiaro Però Insomma Sono stati bei numeri Volevo mostrare anche quella che è la chart di Brett Brett che sta tenendo Guardate qui Con vari minimi crescenti Pump and dumps Soliti Però insomma Io sono abbastanza confident Ok? Su questo Meme Ovviamente Andate sempre a considerare Rischio di rendimento I momenti Ok? L'entrata Degen Degen buono Perché sta scaricando Sta andando verso la media 20 Quindi potrebbe essere molto interessante Soprattutto questa zona di 2.7 Volevo vedere anche quanto va scaricato Ve lo dico subito Degen ha scaricato un 52% Che non è poco E Potrebbe essere interessante Ok pure Degen Io vedo duro Ok che torni sui 30 RSI Però insomma Buona election Ok in questa fase di mercato Buonissima election Guardate anche qui Numeri sorprendenti A parte di Degen 10X Praticamente Dal 20 marzo Al 31 marzo Quindi in 11 giorni È un token che è letteralmente esploso Dopodiché Toshi Gatto Di base Si muove un po' così Un po' In maniera molto massiva Guardate anche qui Assurdo Ok? Perché qua Ha fatto circa un 40X Follia Follia pura Però ogni un mese Ha fatto 40X Quindi attenzione Anche al gatto di Di base Ok? Tra virgolette Dopodiché Altro token che stavo guardando Che per l'appunto Ha fatto pump and dumps E anche Milady Milady che è ancora piccolo 163 milioni Quindi anche questo Mi sta interessando All'interno del gruppo Cabo Ovviamente se andrò A effettuare entrate Loro vengono a conoscenza Ok? Del mio portafoglio Quindi insomma Abbiamo già fatto numeri Ok? Con me C'è gente che ha raddoppiato Triplicato Quadruplicato Il portafoglio Io stesso L'ho triplicato Che nell'ultimo periodo Veramente Foglia pura Però chi è dentro Sa E quindi è un po' questo Ok? Il discorso Lady secondo me Interessante Quindi altra coin Che secondo me Dobbiamo osservare E poi ci sono anche Tutte le coin di Solana Che secondo alcuni Ma li sono iperinflazionate Ok? In questa fase di mercato Però abbiamo comunque 7.3 miliardi Ok? Sulle coin di Solana Quindi secondo me Sono ancora tranquille Trigolette Toghiamo il primo posto Dog with Fat 3.3 miliardi Bonk 1.4 Book of Meme Book of Meme Non me che mi piace 741 milioni Cat in a Dog's World Questa è nata Pochissimo Sono nesto Me la sono persa Perché non è che Si riesce a star di tutto Però Noi abbiamo varie strategie Abbiamo varie strategie Anche qui Sui token Solana Abbiamo attuato strategia Quindi attenzione Perché bisogna guardare Più settori Prendiamo un attimo Book of Meme Perché? Andiamo da un attimo L'action Qui potenzialmente C'è un bel supportone In zona 12.6 Ovviamente molto dipenderà Da quello che farà Bit Vediamoci Ci danno i primi dati Su RSI RSI ancora scarico a 37 Quindi attenzione Abbiamo ancora una volta Mai a 28 Quindi secondo me Book of Meme E' uno di quei potenziali nomi Che potrebbe far molto Ma molto bene Ok in futuro Ovviamente prezzo a pagare Volatilità Però secondo me Non è malaccio L'action di Book of Meme Quindi attenzione Ragazzi Perché Non dico Sky Rockets a breve Però ci sono bei volumi C'è bella action Chi è un chiede di Book of Meme Sa anche Le cose da guardare E se ne sapete Io vi consiglio SamuBeat.com Ci andate E magari vi prendete Meme Mania Che secondo me Ha super senso In questa fase di mercato Conoscere O perlomeno il libro Che trovi anche sotto In descrizione Ok Veramente Un prezzo irrisorio Dovete fare una cultura Dopodiché Andiamo a dare Dogecoin Dogecoin Più volte è definito Come secondo me Re Dei meme Se muore Dogecoin Muore tutto Viene giù tutto Sia chiaro E in questa fase di mercato Comunque sul mensile Se andate a tacciare 70 RSI Ora Li respinti Però io non la vedo malissima Guardate qui Se andate incontro La vecchia resistenza Dei 17 Quindi secondo me Molto molto bene Che in questo momento Ci sta facendo supporto Tra l'altro Guardate qui Sul settimanale Double bottom In zona 17 Quindi attenzione a Doge Perché se ripampa Bit Secondo me Doge prende parte Soprattutto anche perché Dobbiamo ancora rompere Questa resistenza Contro Bitcoin Resistenza che Vorrei ricordarvi Tura da maggio 2021 Tra poco Andremo a chiudere Un triennale Ok qui Contro Bit Che praticamente Siamo impotenti Che Dogecoin Non gli tira Quindi attenzione Perché se arriva un Viagra Dogecoin Prende e rompe E dopo lì Fa festa con tutte le Le dojine Ok Tra virgolette Questa mi piaceva Questa mi piaceva Registrate la regia Ok Secondo me arriverà Quel grande giorno Insomma Deve buttare fuori Tre anni Ragazzi Provate voi A stare tre anni Senza Senza quello Dopodiché Andiamo a vedere Anche infine A chiudere Shiba Shiba che in questo momento Guardate qui Anche qui Bellissimo Double bottom Sul settimanale In zona 2364 Quindi attenzione Attenzione Perché anche Shiba Potrebbe già Avere registrato I suoi minimi Ora Stato Potremmo definirlo Scantinando Per andare su Infine ti ricordo Che se anche tu Vuoi migliorare Quelle che sono Le tue conoscenze All'interno del mondo Cripto Vuoi iniziare A studiare una strategia Vuoi iniziare A capirne di più Non solo sui meme Ma proprio Su come ci si muove All'interno di questo mondo Che è bellissimo Ma anche tiranno Ti ricordo Proprio Per notare Tocco gratuita Andrò a vedere Assieme Quella che è la tua situazione Cercherò di capire Quella che è la situazione E quello Che possiamo fare Letteralmente Assieme E per questo Se vi è piaciuto Questo video Ti ricordo Di suggerire Potete like Iscrivetevi al canale E noi Ci vediamo Presto Hasta la vista Hombre